Innanzitutto mi piacerebbe raggiungere il 50% delle conoscenze che ha il signor Paone, in senso che vorrei riuscire a dissertare con la sua scioltezza, con la sua autorevolezza di tutte le materie. Insomma mi sembravo un uomo dal multiforme ingegno. Tu li apri domani, giusto? Io domani non apro perché ho atteso fino alla fine che fossimo garantiti e quindi domani iniziano le preparazioni e quant'altro. Il mio riferimento precedente era al delivery. Il delivery può funzionare, e questo lo dice un addetto ai lavori, non un qualcuno che fa altri misteri, solo per determinate cose. Quindi solo per un cibo che è ritagliato e che nasce per essere internazionale e che non sia la nostra cucina. Poi se a qualcuno piace mangiare un spaghetto alle vongole fatto praticamente come se fosse una colla, là è il gusto, è chiaro, perché può piacere sia Sofia Loren che Pina Fantozzi. Se le piace Pina Fantozzi allora quel tipo di spaghetto va benissimo. Quindi questo è il ragionamento. Sarebbe praticamente piacevole che ci fosse un equilibrio in generale e che parlasse chi deve parlare, quando e se conosce. Altrimenti siamo praticamente alla merce di tutto. Però lo so che questo è un'eresia, sono in un mondo praticamente un po' fantastico, quindi mi devo tenere paura in questo momento. No, ma la mando al Masterchef, lì lei capisce tutto e tutto può spiegare. Ci siamo già stati, la mia famiglia ci è già stata come giudice, quindi praticamente ha fatto un ulteriore autobus. Ci torni perché di economia del futuro di questo paese, di economia del futuro di questo paese, lei non capisce niente. Ma quale economia? Lei sta parlando di cucina di cui non capisce nulla. Lei non capisce nulla di cucina. Lei non capisce nulla di cucina. Lei non sa cosa sta per succedere in questo paese fa dieci anni. Lei di cucina non capisce nulla. Faccia la pasta alle vongole. Ma apra un ristorante, apra un ristorante e faccia il delivery e poi lo vediamo insieme. Quando chiude il paese, chiude lei e chiudono tutti. Allora io mi occupo di tempo.